Questa mamma cane e i suoi cuccioli sono stati crudelmente abbandonati e chiedevano aiuto disperatamente. Fortunatamente, un rifugio di soccorso in Serbia ha ricevuto una chiamata sulla loro situazione e si è precipitato immediatamente in loro soccorso. I soccorritori hanno verificato se la mamma cane sarebbe stata difensiva, ma fortunatamente si è rivelata gentile e dolce, permettendo loro di avvicinarsi a lei e ai suoi cuccioli. Hanno perlustrato l'area per assicurarsi che nessun cucciolo fosse stato lasciato indietro e si sono diretti verso un rifugio. Dove li hanno nutriti e curati, li hanno accuditi finché i cuccioli non sono cresciuti più grandi e più forti. Una volta pronti, il rifugio li ha offerti per l'adozione, garantendo loro di trovare famiglie amorevoli per sempre.